Ciao Ciao a tutti, popolo del tubo, buona domenica e bentornati nell'unico, vero e originale Mod News, ovvero il Robymel81 Mod News, diffidate dai cloni imitazioni. Amici, che dirvi, che dirvi, è stata una settimana abbastanza interessante, sia dal punto di vista delle mod, sia dal punto di vista di quello che Mamma Giants ci ha rilasciato. Quindi adesso insieme andremo a fare un piccolo riassunto di questa settimana. Prima di cominciare io vi invito sempre a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina. In descrizione i miei social, la mia piattaforma viola dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere, se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis. Il mio link è affiliazione Giants dove potete, da PC e solo per la copia digitale, acquistare Farming 25 e quindi aiutarmi a raggiungere la partner oro. E inoltre vi ricordo i nuovi piani di abbonamento con nuove fantastiche esclusive per gli abbonati. Video in anteprima, video esclusivi, serie esclusive, tutte le live di Twitch ricaricate senza tagli. Insomma un bel po' di roba grazie a tutti gli amici che si abbonano e aiutano e sostengono il canale. Poi a fine video ovviamente andremo a ringraziare uno per uno gli amici abbonati. Ma detto questo cari ragazzi io inizierei prima a fare un giretto all'interno delle mod uscite questa settimana. Le mod secondo me più interessanti e poi passiamo come sempre a fare un recappone di quello che Giants ci ha detto su Farming Simulator 25. Quindi pronti e partiamo. Allora iniziamo con una mod solo per PC, uno script molto interessante che ci permette di skippare due o tre giorni tutti insieme per quanto riguarda il sonno. Insomma quando voi andate a letto con questa mod qua e quando andate sul trigger della casa dove dormite invece di avere solo un unico controllo con la scritta dormi con il tasto R vi apparirà anche con la V vacation, 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 credo che sia vacation. Voi con il tasto V potrete selezionare quanti giorni skippare. È abbastanza utile perché vi risparmiate di premere il tasto R più di una volta. Insomma è utile solo per quello perché per i pigri, per chi non gli evate pigiare il tasto R più di una volta, pigiate V e piano piano vi avanza. Che ne so, state a dicembre, dovete arrivare a marzo, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, fate vacation, dormi tre giorni e vai. È un po' lenta come mod perché non è che è velocissima la cosa, però dai potrebbe essere utile. Io la sto testando. Altra mod, solo PC, molto interessante, è Select Distribution Target. Praticamente adesso quando noi mettiamo in distribuzione un prodotto dalle nostre fabbriche possiamo scegliere dove mandarlo. Questa era una cosa che doveva esserci di default e visto che purtroppo di default non c'è ci ha pensato il modder. Peccato che sta cosa doveva esserci subito, ci hanno pensato solo a fine farming. Speriamo che questa opzione di scegliere dove distribuire la roba sarà presente di default sul 25 perché è una mancanza veramente grossa, grossa, grossa. Andando avanti, John Deere 9R, Sidious 2015, Dinse, Dinse ragazzi, il nostro Dinse che come al solito ci sforna John Deere su John Deere su John Deere. Questa è appunto l'edizione 2015 del 9R, né più né meno per gli amanti di questi bestioni. Andiamo avanti. Black Sheep Modding ci ha deliziato con l'uscita del MAN 19.322 con la possibilità di metterci dietro il Palfinger o Palfinger, chiamatelo come vi pare. Quindi adesso avrete la possibilità di usare il vostro Palfinger, di infilarlo dietro al vostro MAN 19.322, ok? Quindi, diciamo, va a completare la mod del Palfinger. Poi andando avanti, una mod solo per PC, Disrevamp. Praticamente un nuovo sistema di api un pochino più realistico con api giovani, api un pochino più anziane. C'è tutta una spiegazione che vi verrà data nella categoria Help del gioco. Io non l'ho ancora testata, non l'ho provata, quindi ve la segnalo. Se siete interessati a un sistema di api un pochino più realistico, un pochino più complesso, andate a dare un'occhiata alla BIS Revamp. O Revamp, sapete che l'inglese non è più il mio forte. E allora ragazzi, andiamo un attimino adesso a cercare di fare chiarezza su una mod che ha creato un po' di confusione. Parliamo di una mod di spano modding, chiamata UTB Universal 650. Su PC la troviamo UTB Universal 650, su console la troviamo Fiat Universal 650. Eccola qua. In realtà, però, sono realistiche entrambe le mod. C'è entrambi i brand. Perché? Perché esiste sia l'UTB 650, che è un trattore che va dai 65 ai 250 cavalli. L'hanno un po' pompato, devo dire, l'hanno un po' pompato, ma hanno fatto bene. Perché nella realtà non è che c'è tutti questi cavalli, però hanno fatto bene a pomparlo. Perché su Farmig, ragazzi, quei trattori dei 60 cavalli, ce fai poco, li compri e li lasci lì a disposizione. Invece, pompato fino a 250 cavalli, sarà un po' meno realistico, però almeno lo usate. Almeno lo usate, raga. Allora, praticamente, che cos'è? Allora, per capire meglio la mod, dobbiamo andare a capire innanzitutto che cos'è questo UTB Universal 650. Lo capiamo grazie a Wikipedia. L'UTB Universal 650 è un trattore agricolo prodotto dal 63 al 72 dalla dita rumena UTB Universal. Quindi è in tutto e per tutto un trattore romeno. Eccolo qua, vedete? Vedete? Quindi è un trattore romeno. Però, però, se noi andiamo a leggere UTB Universal, inizialmente nota come eccetera eccetera, era un'azienda di trattori di Brasov, Romania, iniziò a costruire trattori su licenza Fiat. Ok? Quindi, il fatto che il modder ha brandizzato Fiat, i trattori, su console, non è solo perché non c'aveva il brand UTB e quindi per non mandarli come Lizard li ha mandati Fiat. No! Era anche un modo per dare un'alternativa, diciamo, al tipo di trattore, perché ha messo sia l'UTB originale, l'Universal 650, sia la versione Fiat Universal che esisteva quindi, esisteva soprattutto, era una versione ufficializzata, commercializzata in Argentina perché in questo sito che ho trovato, noi qua leggiamo, il nuovo Fiat 650 Universal, il primo trattore progettato, realizzato in Argentina. Quindi, come potete vedere, esisteva veramente, cioè non è una cosa messa lì a caso, anche io credevo che fosse una cosa buttata lì a caso, in realtà il Fiat 650 esisteva veramente, con le sue versioni standard e universal. Ecco qua, vedete, qui state vedendo proprio i documenti originali di quell'epoca, di quei tempi, quindi eccolo qua, vedete? Eccolo qua, Fiat 650 Universal. Perciò, questo rende realistica la mod. Quindi, un trattore che veniva prodotto in Argentina, che però si appoggia alla UTB, che è appunto un'azienda romena. Insomma, ragazzi, questa è la storia dell'UTB Universal, trattino Fiat Universal. Spero di avere fatto chiarimenti. Passiamo a Farming 25. Allora, ragazzi, qui Giants questa settimana ci ha fatto vedere, finalmente ha fatto chiarezza su entrambi i tipi di riso. Io ora non vado a ripetervi tutto quello che ci ha detto Giants, ci ho fatto un video proprio dello specifico. Vi invito ad andare a vedere quel video, ad andare a recuperarvelo. Comunque, due tipi di riso, uno che si seminerà, questo qua con l'icona nera, con la risaia allagata, quindi dovete allagare la risaia, poi piantare le piantine, mentre quest'altro, questo diciamo con l'icona bianca, si semina ad asciutto e poi dopo dovete allagare le risaie. Sarà molto importante allagare le risaie, perché Giants ci ha detto che, e questa è una cosa fantastica, che le risaie e il riso consumeranno l'acqua, quindi durante l'anno, durante la stagione, noi dovremo tutti i giorni andare a guardare le risaie perché rischiamo che il livello scenda. Quindi ci saranno anche dei periodi di crescita particolari dove il livello scenderà, quindi dobbiamo stare molto attenti perché se la risaia resterà asciutta, il nostro riso morirà. Quindi bella questa cosa di dover controllare il livello dell'acqua. Poi ci hanno fatto vedere come verrà appunto disegnata la risaia, noi avremo questo strumento all'interno del menu di gioco Cultivation, avremo questo strumento qua, dovremo andare lì noi a disegnare la risaia, quindi possiamo o creare noi un campo e poi farne i contorni e farlo diventare risaia, oppure comprare un campo della mappa, farci i contorni e farlo diventare risaia. Sarà a noi amici decidere appunto come costruire le nostre risaie. Una volta costruita la risaia apparirà appunto la chiusa e tramite la chiusa noi potremo allagarla o asciugarla, insomma dipende se dobbiamo raccoglierla o meno. Vedete qui c'è il menu, vedete qua ci dice il livello dell'acqua 51%, ad esempio qui è troppo basso e l'acqua va riempita. Tanta 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 robina ragazzi, tutto quello che riguarda il riso, non vedo l'ora. Vi ricordo che ci hanno detto che ci saranno produzioni anche per il riso, perché qua dice di o venderlo, o conservarlo o usarlo per le produzioni, ma ancora non sappiamo quali produzioni ci saranno. E poi, altra cosa che già sapevamo, sarà possibile con delle serre posizionabili e l'acqua far crescere i pallet di riso. Penso che conviene ragazzi, piuttosto che comprarli, penso che a inizio carriera conviene subito mettere giù queste serre, metterle giù e appunto fare riso così. E infine ragazzi, il fact sheet della settimana, un po' deludente per quanto mi riguarda, è stato un fact sheet moscio moscio moscio, abbiamo visto il 9RX, che è quello vecchio tra l'altro, qualcuno si è lamentato che manca quello nuovo, ma non è detto che quello nuovo non uscirà, magari con un update, magari con una mod, magari lo troveremo come il mod al giorno d'uscita, oppure magari deve essere semplicemente ancora annunciato, lo vedremo comunque al lancio del gioco, quindi non disperate. Ci hanno fatto vedere la nuova Manitou, ci sarà il modello nuovo della Manitou, ci hanno fatto vedere l'EPD per raccogliere appunto i piselletti che già avevamo visto, e poi ci hanno fatto vedere questo grosso carro miscelatore tra i led line 4.0 della Seeloking, con la solita roba d'alimentazione delle vacche, e qui ci vanno proprio a confermare che l'alimentazione sarà sempre quella, non ci sono file type nuovi, non c'è niente di nuovo, la speranza è che il bancime minerale abbia una funzione, cosa che purtroppo sul 22, tranne per far partire il bottino nella stalla automatizzata, non aveva. Qualcuno dice, non vedo però la paglia di riso, ma io secondo me il riso, se farà la paglia, farà la paglia normale, perché sapete che Giants cerca sempre di alleggerire al massimo il gioco, quindi non vedo il motivo di mettere due file type di paglia, paglia e paglia di riso. Queste sono cose che fanno i modder nelle loro mappe, ma che difficilmente fa Giants nei suoi giochi. Ragazzi è tutto, fatemi sapere che cosa vi è piaciuto di più, di meno di questa settimana, come sempre la vostra opinione per me è importante, lasciate un bel like se non l'avete fatto, io devo ringraziare gli amici abbonati, Micro, Florio, Mark Selvi, Cristian Beretta, Cinghio, Michele Melgari, Pierzi, Mettiuccio, Micheletto, Marco Gaming, Mirko Carollo, Leone Leone 96, Stefano, Domenico, 3.003, Federico Bana, Paolo Grosso, Andrea Trincanato, Stefano Meneguzzi, Luca Galelli, Diego Lafe, Pierlorezzo Ferraris, De Baffo, Darwin, Enrico Pia, Aldo Perugini, Brandino e Castalex. Grazie a tutti ragazzi, buona domenica, e noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao! Ciao! Ciao!